Grazie a tutti. ...di storia dello spettacolo siciliano, si sono scommessi in un nuovo progetto del tutto inedito, durato 15 lunghi anni, che ha regalato loro uno straordinario risultato. Quella dei Pirandello è la famiglia in assoluto più affascinante, più intrigante, più tormentata, intorno a cui ruota l'intelligenza e l'avventura culturale di un intero secolo. Molti viaggi realizzati fra l'Europa, l'Italia e l'America nei meandre delle più famose biblioteche ed archivi privati per dare la caccia alle più affascinanti fotografie che immortalano i momenti salienti della vita del premio Nobel insieme con la famiglia. Pirandello è stato invitato a Praga, noi siamo stati di recente, anche lì è venuto fuori un materiale fotografico straordinario, siamo stati ospiti nella stessa stanza. Sfogliando il libro sfilano in fascinosa sequenza i componenti della famiglia insieme con i personaggi fra i più autorevoli del Novecento, da Albert Einstein a Walt Disney come anche Vittorio De Sica. Fotografie portate in giro per il mondo anche attraverso una mostra itinerante. Adesso è a noto e si deve proprio a questo sensibile sindaco, il dottore Corrado Bonfandi, il patrocinio al volume e alla mostra. Un volume documentario che racchiude uno spaccato storico di grande spessore intellettuale.